ciao ragazzi sembra un gioco divertente cosa c'è che non va katie non ti è permesso partecipare perché non hai una spada forse potresti farti fare un makeover all'officina di verniciatura di Tom invece la porta è chiusa ma all'interno si vede una luce vai a suonare il canello katie ciao ragazzi cosa state guardando guerre stellari forte eccetto che katie è qui per una trasformazione vi spiacerebbe fare una pausa dal film grazie mille ottima idea quella di trasformarla in una x-wing baby tom per prima cosa dobbiamo rimuovere alcune parti non 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 ok, ora siamo pronti per metterci al lavoro hai ragione, è un lavoro di pittura complicato usiamo prima le bombolette bianca e grigia per lo strato di base e poi vernice rossa e gialla per i dettagli è arrivato il momento dei dettagli sì, possiamo iniziare ad aggiungere qualche funzione interessante ora, baby Tom ecco che arriva tuo padre con i vari pezzi un'unità R2 di 2 e delle ali non è ancora finita, baby Tom puoi prendere della vernice grigia mentre tuo padre va a prendere l'abitacolo? adesso verniciamo i copriruota e... il tocco finale la cabina di pilotaggio sei stupenda come X-Wing di Star Wars, Katie grazie ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro wow, guardate come va sembra che Katie abbia conquistato l'attenzione dei ragazzi ora Tyler, i tuoi prigionieri sono fuggiti mentre guardavi Katie forte questo makeover da X-Wing, eh? scommetto che adesso volete giocare con Katie, eh? bene, buon divertimento a tutti ciao! l'officina di verniciatura di Tom ehi là ragazzi Rocky, sei davvero fantastico come Buzz Lightyear vuoi farti trasformare in Woody per abbinarti a lui? che bella idea Tom, baby Tom vorrebbe assomigliare allo sceriffo Woody puoi farlo? che cosa si fa per primo, Tom? oh, tutta questa vernice è per baby Tom oh, tutta questa vernice è per abbinarti a lui? oh, tutta questa vernice è per abbinarti a lui? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info giusto è un gilet di mucca quello ora che si fa mi chiedo a che cosa serva questo ah capisco la tua camicia è a quadretti baby tom guarda adesso hai persino i blue jeans di woody con la loro cintura per cosa sarà quello è la stella da sceriffo di woody ovviamente bel nascondiglio tom wow questo cappello da cowboy è perfetto baby tom sei identico a woody ora è sorprendente ehi rocky guarda tu e baby tom adesso fate una coppia perfetta ciao baby tom goditi il tuo nuovo look a presto tom ciao rocky ciao steve sembra che tu stia lavorando sodo preferiresti guardare spongebob ehi sai che l'officina di verniciatura di tom potrebbe farti sembrare spongebob vuoi andarci forza allora sarà divertente ciao tom steve vorrebbe assomigliare a spongebob è possibile fantastico non vedo l'ora di vederlo da che cosa cominciamo tom dobbiamo cambiare leggermente la tua tonalità di colore steve questa sarà perfetta è 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 cosa c'è di verde su spongebob? una spugna per dipingere una spugna oh ho capito ora wow sembri davvero una spugna steve e adesso che si fa? vai nel tuo ripostiglio segreto tom ma che cosa potrebbero servire quelli? oh sono denti cosa ne pensi steve? sono d'accordo con te sembri proprio spongebob lavoro brillante tom questa trasformazione ti soddisfa steve? oh sono felice che ti piaccia complimenti tom adesso tornerai al lavoro non stai lavorando stai soffiando bolle proprio come spongebob sono contenta che ti stia godendo il tuo nuovo look steve arrivederci ciao tom alla prossima troi il treno è in forma oggi ehi troi di cosa sei così felice? sei appena stato in riva al mare forte e dove stai andando adesso? wow che giornata divertente prima in spiaggia e adesso tom sta arrivando con le sue vernici che ragazzo fortunato ehi tom stai scegliendo le vernici per la trasformazione di troi? non sai in cosa trasformarlo? forse potresti farlo diventare una creatura marina è appena tornato dal mare tom sei sicuro che quello sia ciò che ti serve? sì sembra più adatto buona idea potrai dipingere dei dettagli se prendi anche una vernice nera forse dovresti prendere un pennello grosso e uno piccolo nel caso servissero bene è tutto? naturalmente la tua scatola degli adesivi che cosa c'è lì dentro? penne! vuoi trasformare troi in uno squalo? tom tom ti farà diventare uno squalo troi guarda guarda ha anche un muso da squalo per te tom tom ha bisogno che ti giri sulla tua piattaforma in modo da poterti coprire con il colore di base guarda 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 come se è in un'unico scegliamo passa guarda 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 scigliamo ora puoi aprire gli occhi troi il prossimo colore è solo per la pancia e adesso alcuni dettagli che cosa sono quelle Tom? oh sono le sue branchie è così che respirano gli squali e i pesci Troy lo sapevi? e adesso Tom ti farà qualche striatura sei fantastico Troy ma manca qualcosa Tom ha ragione hai bisogno di pinne da squalo così va meglio sei incredibile Troy scommetto che ora vuoi andare a mostrare in giro il tuo nuovo look vero? ah sembra divertente Tom Troy torna in spiaggia vorresti andare con lui? giusto voi ragazzi avete bisogno di occhiali da sole divertitevi ragazzi rinfrescatevi e noi ci vediamo la prossima volta cosa c'è che non va a Marley? vuoi provare un salto più difficile? ti farai dipingere di nuovo da incredibile Hulk ma in che modo questo aiuterà le tue acrobazie? ok scopriamolo ehi Tom hai un nuovo cliente Marley vuole essere dipinto di nuovo come l'incredibile Hulk pensi di poterlo aiutare? certo prima sempre gli occhiali protettivi ora cosa c'è? oh rosso blu giallo bianco e verde sei pronto Marley? oh delle grandi ruote fantastico del viola oh per i suoi pantaloni ovviamente sì oh ah oh ah oh ah 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 Oh Incredibile Però manca qualcosa Stupefacente! Sembri proprio l'incredibile Ulf Non facciamola arrabbiare Tranquilli bambini È solo Marley Sta andando a provare un nuovo salto Certo, potete venire anche voi a vedere Marley, è stato fantastico Dovresti stare attento con quella forza però Ci vediamo presto ragazzi Ciao a tutti